intanto attenzione Procopio gol ed è subito gol su un errore della difesa il tocco all'indietro vede Riso che ruba palla attenzione Riso e segna Riso recupera palla mette in mezzo un grande gol ecco la palla si impenna riceve Procopio posizione defilata di tesoriere pallone alto colpo di testa palo e canistrà ribadisce Real Montepaone 4 Real Mileto 1 il 2018 inizia bene mister Pisano si inizia come come volevamo e come speravamo con una buona prestazione secondo me anche se ancora siamo lontani da quello che potrebbe essere una percentuale di realizzazione più alta perché continuiamo a sbagliare gol abbastanza semplici però non ci possiamo lamentare per il secondo tempo fatto a ritmi importanti anche perché Procopio ha fatto tre gol canistrà una mega partita ma tutto il collettivo ha funzionato sì sì assolutamente non c'è dubbio su questo i ragazzi hanno fatto una grossissima partita oltretutto oggi abbiamo raggiunto 100 punti in un campionato e mezzo dal lavoro quindi un lavoro che parte dall'anno scorso è che è importante per continuità e è la cosa che mi interessa di più proprio per qualità di gioco perché siamo riusciti anche oggi secondo me ad avere la meglio su una buona squadra e giocando a calcio e oggi abbiamo ricordato sia Gregorio Vatrella che Francesco Lamberti due giocatori uno del Mileto e uno del Montepaone sì da questo punto di vista ci siamo uniti come giusto che sia nel ricordo di questi due ragazzi che troppo prematuralmente ci hanno lasciato però il nostro obiettivo continua sempre ad essere quello in ricordo di Gregorio perché era giustamente qualcosa di troppo importante per noi e ora andiamo a goderci un girone di ritorno dove il Montepaone dirà sicuramente la sua faremo il possibile per dire sempre la nostra cercando di raggiungere qualche obiettivo importante che siano i playoff che siano i primi due o tre posti noi guardiamo sempre partita dopo partita sono 5 adesso le vittorie di fila che è un filotto importante che ci permette di guardare con fiducia il proseguo ed eccoci ora con mister Spina complimenti per la prestazione anche se il risultato vi penalizza oltremodo però avete fatto con quel gol al 46esimo del primo tempo un po' tremare il Montepaone Lei ha ragione mi sento dire sempre le stesse cose complimenti 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 però alla fine poi perdiamo il risultato è quello che conta sono felice per la prestazione dei ragazzi hanno fatto una buona prestazione anche perché dopo le vacanze si sa non siamo mai al top della condizione per il resto sono contento e speriamo di raggiungere presto questa salvezza questa agonata salvezza grazie E oggi soprattutto c'è stato un bel gesto perché il Montepaone ricordava Gregorio Vatrella voi Francesco Prestia Lamberti e quindi è questa la cosa importante oltre forse andando oltre il risultato No il risultato non conta niente sono queste le cose più belle più belle sotto certi aspetti la cosa più brutta per quello che è successo sia per il vostro atleta che per il nostro per noi è stata una botta tremenda e anche credo per voi noi sotto questo aspetto speriamo che ci possiamo unire ancora di più dopo questa brutta cosa che è successa sia per Francesco che per Vatrella